Anche io voglio dare il più caloroso e riconoscente benvenuto alle autorità civili, religiose, militari che hanno voluto onorare con la loro presenza l'inaugurazione di questa decima edizione della settimana della salute mentale. Sì, questo è il decimo anno, come è vero che il tempo è la forma delle cose, quello che appariva dieci anni fa il sogno un po' folle di un manipolo di persone che si interrogavano su come aprire la salute mentale alla comunità, ricordate lo slogan delle prime edizioni, la salute mentale non è solo roba da matti? Oggi tutto questo è una solida realtà, certamente la più grande manifestazione nazionale sui temi della salute mentale, sui temi della lotta allo stigma, sui temi della comunità solidale con le persone che hanno un problema di salute mentale. E allora lasciatemi dare merito a quei folli sognatori di allora, tra gli altri Manuela, Tilde, Luca, Antonio, Daniela e anche Paolina che non è più tra noi e di quelli che ancora oggi credono nella forza trasformativa, propulsiva di un sogno. Alda Merini direbbe anche la follia merita i suoi applausi. Ecco, io vi chiedo un applauso per tutte queste persone, comprese quelle che oggi hanno raccolto questo difficile, impegnativo testimone, per tutte queste persone che hanno consentito di ritrovarci qui oggi. La settimana della salute mentale che ci apprestiamo a celebrare in quest'anno, quest'anno segnato dal Covid, in un momento di preoccupazione per l'aumento dei contagi, è un'occasione per affermare il primato dell'umanità, della forza di reazione, della capacità di ripresa di una comunità di fronte alla sfida della pandemia. Per affrontare questa sfida abbiamo dovuto immaginare nuove forme di relazione, nuovi modi per vivere i nostri affetti, nuovi spazi per esprimere il desiderio di socialità. Lo abbiamo fatto, seguendo scrupolosamente le prescrizioni, continueremo a farlo, ponendo un'argine con scelte sofferte, ma condivise al dilagare del contagio. Il tempo che stiamo vivendo è anche un tempo per recuperare la memoria, per sfuggire, direbbe Kundera, al demone della velocità, quella velocità che affida all'oblio le nostre esperienze, la nostra storia, e con esse la capacità di trasformarla. La tragedia del Covid ci ha obbligati ad alzare lo sguardo, a comprendere come il battito d'ali di una farfalla, o forse di un pipistrello, sia in grado di modificare e provocare un uragano dall'altra parte del mondo. Il Covid ci ha mostrato con impietosa chiarezza la nostra fragilità, e imponendoci distanze fisiche ci ha mostrato l'importanza dei legami, delle relazioni. Ci ha ricordato soprattutto che dal comportamento di ciascuno dipende il destino di tutti e che l'indifferenza, la non curanza è il virus che immina il nostro vivere civile. In questo senso abbiamo dovuto interrogarci sul significato della parola responsabilità. Al tempo stesso impegno a rispondere delle proprie azioni, ma capacità di dare risposta ai bisogni dell'altro. E quindi, come insegna Zamagni, di prendere sulle spalle il peso delle cose, la respondus, la sofferenza delle persone. Il momento che viviamo è uno spartiacque, un'opportunità decisiva e irripetibile per rilanciare nel nostro Paese il sistema sanitario pubblico e al suo interno un sistema di cura per la salute mentale che sappia realmente farsi carico della sofferenza. Come avvenne alla fine degli anni 70 con la legge 833 e la 180 che l'aveva preceduta, Anche in questo caso l'obiettivo è la costruzione di un nuovo welfare di inclusione, riprendendo e attualizzando i principi di quella grande stagione di riforme. Pensando a quegli anni, come non ricordare la figura che più di tutte ha segnato la storia della salute mentale di comunità, di cui ricordiamo quest'anno il quarantennale della prematura scomparsa. Il pensiero lungo di Franco Basaglia, nonostante la sua espulsione, marginalizzazione dai centri di produzione del sapere, della cultura, della formazione, accompagnato in tutti questi anni, si è incarnato nelle nostre prassi, ci sorregge negli inevitabili momenti di difficoltà. Oggi non abbiamo più mura di ospedali da abbattere, ma ci confrontiamo quotidianamente con la complessità che abbiamo liberato e con la tentazione di ridurre, semplificare, catalogare. Quella tentazione, lo comprendiamo, è umana, protegge dall'ansia, ma produce effetti tossici, le risposte preconfezionate, le categorie, la ridotta capacità di ascolto. Ma la realtà, i comportamenti umani, non sono riconducibili a leggi universali sul modello della fisica meccanica. E il dolore, la sofferenza, se non ricevono ascolto, sussurrano al cuore oppresso, dicendogli di spezzarsi. Ecco, un verso di Shakespeare, che potrebbe essere più efficace di tante campagne per la prevenzione dei gesti estremi. Le prassi, dicevamo, la decima edizione di Matt dà ampio spazio a queste esperienze, che valorizzano i temi della domiciliarità, della prossimità, della sussidiarietà, condizioni essenziali per contrastare i meccanismi di delega e neo-istituzionalizzazione, presenti anche nella sanità territoriale. Ma è l'innalzamento del potere contrattuale dei cittadini assistiti, della soggettività delle persone, che rappresenta il cuore del cambiamento necessario. La persona, con un volto unico e irripetibile, portatrice di esigenze e diritti e soggetto protagonista del proprio percorso di cura e non passivo oggetto di intervento. Ciò comporta un difficile ma ineludibile cambiamento di prospettiva, che deve volgere a una reale integrazione di sistema, ancora scomposto tra ospedale e territorio, tra pubblico e privato, tra sociale e sanitario. Ecco, se di una rivoluzione c'è bisogno nel nostro sistema sanitario, questa riguarda il rendere unitaria l'azione pubblica in ambito socio-sanitario. Negli ultimi tempi abbiamo sentito spesso dire mai perdere le occasioni di una crisi. La Settimana della Salute Mentale di Modena vuole essere una di queste occasioni ed offrire la grande riflessione collettiva che si svilupperà in tutti i suoi eventi a quanti avranno il delicato compito di programmare il mondo per la prossima generazione. Next Generation EU Lo faremo per noi, per i nostri figli, per quelli che verranno. Proviamo a lasciar loro un mondo migliore di quello che abbiamo trovato. Grazie.